Quinta corsa, Gran Premio Antonio Carena, gruppo 2, anche seconda Tris, 1600 metri per le femmine indigene di 4 anni, 14 al via, 2 fila al completo, la prima, Dali Pravere, Nelegati, Deitona Rocca, Filippo Rocca, Denis Cesse, Vincenzo Luongo, Doni Mecca, Antonio Simioli, Dolcezza Sergio, Gabriele Gelormini, Deitona Di Cecco, Pietro Cubellini, Donna Vittoria Parga, Asparello Verde, seconda fila, 8, Damaris Griff, Marco Stefani, 9, 2 Italia, Andrea Farolfi, 10, Dada Del Rocco, Mario Minopoli Junior, 11, Dottor Lara Fonte, con Santo Mollo e sostituisce Antonio Di Nardo, 12, Diana Getta, Francesco Tufano, 13, Danne K, Max Castaldo, 14, Dottor A.S., Alessandro Gocciadoro. Il lancio vede lottare Donna Vittoria Parga, all'argo di tutti, Deitona Di Cecco, Dolcezza Sergio che rientra così come Daliprav e allora Dolcezza Sergio leader su Daliprav, Deitona Di Cecco all'esterno, Donna Vittoria Parga che desiste e retrocede, terza in corda c'è Denis Cesse, avanza a largo Doni Mecker, terza ruota per Doni Mecker che vada a girare Deitona Di Cecco per puntare su Dolcezza Sergio, rimane scoperta in terza ruota, Dolcezza Sergio leader avvicinata da Doni Mecker in terza ruota, Dolcezza Sergio che forza i tempi, vada a girare Doni Mecker per andare su Dolcezza Sergio, terza ruota anche per Dottor Lara Fonte, Dolcezza Sergio leader, Dolcezza Sergio che va a parcheggiare alla Salchi della Battistrada, avendo all'interno l'altra compagna di allenamento, Daliprav, la terza ruota per Dottor Lara Fonte, poi ancora Damaris Griff con all'esterno Deitona Di Cecco, poi in corda c'è anche Dada Del Ronco, gruppo molto molto compatto ai 500 finali, Dolcezza Sergio, Dottor Lara Fonte, l'errore di Dottor Lara Fonte, mentre scatta in terza ruota 2 Italia, Dottor S che preme su Fortezza Sergio, a centropista ci prova 2 Italia, intanto i 1.200 in 1.25 e 7, Daliprav che sposta dalla corda, poi Damaris Griff, poi Dada Del Ronco per linea interne, Dolcezza Sergio al comando, Dottor S al suo esterno, più in fuori Dalliprav per linea interne, Damaris Griff, poi 2 Italia, poi Dada Del Ronco, Dolcezza Sergio, Dottor S, lo scatto di Dalliprav in anticipo su 2 Italia, l'ottano in 4 dall'interno, Dolcezza Sergio, Dottor S, Dalliprav, poi 2 Italia che sta finendo fortissimo, 2 Italia che passa e vince su Dalliprav e Dottor S. 9-1-14, l'arrivo ufficioso, la vittoria di 2 Italia, Andrea Farolfi, Mauro Baroncini, 1.55 e 3 sul mio cronometro per la vittoria di spunto di 2 Italia sulla pista che l'aveva vista in attesa, protagonista negativa nelle Hox, oggi si rifà, vincendo alla grande il premio careno con fresco spunto finale, Dalliprav ha ragione invece di Dottor S che a sua volta batte Dolcezza Sergio per il terzo posto, 9-1-14, l'arrivo ufficioso della quinta di Capannella, la vittoria appunto di 2 Italia nel Gran Premio, Antonio Carena, Andrea Farolfi, Inzalchi, Mauro Baroncini al training, linea allo studio. Grazie.